Sbarre di velte, vetro rotto e poi dentro per mettere a segno quello che deve essere stato un colpo nemmeno troppo impegnativo. A Momeliano, piccola frazione di gazzola, i soliti gnoti questa volta hanno portato il loro assalto alla chiesa, sottraendo un leggio e due tavolini che risalirebbero all'inizio dell'Ottocento, oltre a 12 candelabri in legno dorato, anche questi piuttosto antichi, tutti quanti pezzi pregiati nel mondo dell'antiquariato. I ladri hanno agito presumibilmente nella notte tra domenica e lunedì, approfittando della relativa tranquillità di cui hanno potuto disporre. La finestra dalla quale sono entrati affaccia infatti sul campo sportivo, sede della nota festa del villeggiante d'agosto, e il parroco del paese, Don Fausto Cappucciati, risiede in un paese limitrofo. Un problema sempre più frequente è quello dei furti in chiesa. Fenomeno, specie per le parrocchie di provincia, spesso isolate, difficile da contrastare. Da quanto ritrovato sul luogo, i ladri hanno utilizzato un semplice supporto in ferro, reperito a pochi metri dalla finestra per centrare l'obiettivo. Le inferiate sono saltate, per i ladri non è restato che fare ingresso nella sagrestia, prima di razziare tutto il possibile. Sui fatti stanno indagando i carabinieri della stazione di Agazzano.